buongiorno 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata al forex chiedo scusa per la voce sono ancora raffreddato ma in via di miglioramento con video analisi forex realizzata in collaborazione con topfx state vedendo adesso quello che è il sito topfx che vi dà la possibilità di investire guardate su tutti gli strumenti gli asset più importanti forex indici azioni metalli energia etf con vedete le due piattaforme metatrader 4 e la ctrader questa qui della ctrader attraverso la ctrader è possibile fare anche il copy trading ovvero copiare le vostre operazioni replicare automaticamente le vostre operazioni sul vostro conto scegliendo da una lista di traders che voi in base alle numeri statistiche ritenete interessanti potete anche provarli con un conto demo senza rischiare quindi nulla inizialmente vedete questo è il sito di topfx sotto nella descrizione del video c'è il link che vi rimanda al gruppo su telegram dove ci sono ormai centinaia e centinaia di persone che lo stanno già usando e con cui potete quindi confrontarvi ci sono dei video che spiegano come usare questo servizio molto interessante e potete anche proporvi come fornitore di strategia e ogni giorno ne scopriamo una costantino di topfx oggi mi segnala stable one che è presente da quattro mesi a 13 giorni e che ha già un rendimento stellare questo è il numero di pips qui vedete le condizioni per seguire qui vedete quella che è la sua equity e qui altre repilogo sommario vedete profi factor 344 che pazzesco percentuali di profittabilità 73 63 contro max balance drawdown 436 qui vedete l'andamento mese per mese qui le statistiche relative ai trades quanti sono stati a rialzo a ribasso quanti guardi vincenti e perdente quindi vedete la rappresentazione grafica qui vedete gli strumenti e sembra euro dollaro e sterlina dollaro qui le statistiche sul numero di copiatori quindi vedete man mano che aumenta la performance ovviamente salgono il numero di copiatori questo 639 e qui ci sono altre statistiche insomma è tutto alla luce del sole tutto trasparente per poter effettivamente valutare quello che è il sistema che potete seguire quindi cliccate sul link in basso che vi rimanda al gruppo telegram gratis e adesso vediamo quella che è la situazione forex cominciamo come sempre dal dollaro index l'indice del dollaro contro un paniere di valute quelle più importante adesso 92 81 poco fa toccato un minimo a 92 69 quindi prosegue la marcia a ribasso addirittura adesso sta andando oltre anche questo livello di 93 03 che tutto sommato lo posso togliere perché fino a quando non c'è il colore verde per me non è supporto capovolgendo il grafico abbiamo quello dell'euro dollaro che sta spingendo sopra 1 18 e 26 ha toccato un nuovo massimo di periodo 1 18 70 da quando è partita questa inversione segnalata dalla candela verde del 19 ottobre quindi già oltre questo obiettivo il prossimo è 1 19 e 32 ma il semaforo è verde dollaro chf debolezza quindi buttato giù 0 90 87 in fase di test 0 90 28 ma in questo caso il semaforo e rosso potrebbe scendere ancora di giù quindi debolezza dollaro l'unica situazione in cui dollaro in qualche modo resiste al rialzo ma è più per la debolezza della sterlina sebbene adesso se metto il grafico a candelea normali vedete sta spingendo proprio dentro la resistenza per il discorso brexit dove ancora in alto mare ricordo che quando si parla di un no deal non accordo quindi una hard brexit ci sono vendite della sterlina vedremo se riusciranno nell'impresa dollaro yen oggi torna in rosso e viene messa a dura prova il supporto 105 e 10 le commodity currency ovvero le valute la cui economia dipende principalmente dalle materie prime potrebbero invertire resta ancora debole l'australiano però già la rossa oggi è diventata più piccola segno che la pressione a ribasso si stanno riducendo però ancora non si vede il verde il verde potrebbe arrivare anche sul dollaro neozelandese usd cad invece ieri ha già chiuso vicino a supporto 1 31 e 10 e adesso è ancora lì dentro bene allora con questo è tutto mi raccomando cliccate sul link sotto che vi rimanda al gruppo telegram di copy trading ormai un riferimento a livello nazionale ci vediamo domani con una nuova analisi dedicata alle principali valute buona giornata a tutti